Francesco Tabusso, l'avete sicuramente riconosciuto, il pittore torinese è mancato da poco. In questo quadro, proprio tipica composizione di Tabusso, con la donna, il soggetto principale, con al retro un paesaggio, una simulazione di un paesaggio con una finestra. Vedete una finestra aperta sul paesaggio e di fronte una natura morta di fiori, molto vivace. E' anche questa tappezzeria colorata che riprende i colori dei fiori. E' questa donna vestita, una donna fiore che esce dai fiori, con nei capelli ancora un fiore e ancora un colore. Francesco Tabusso, ritratto di donna con fiori, le dimensioni sono 60x90 e un olio su tela, all'autentica dell'artista su fotografia e l'opera è firmata, come potete vedere, a destra, a mezza altezza. F. Tabusso. Il prezzo di base d'asta di questo olio su tela, 60x90 di Francesco Tabusso, è di 7.000 euro. 7.000 euro. Verrà esitato alla centoventesima asta della casa d'asta Sant'Agostino. Vi ricordo le date dell'asta che sono il 26 e il 27 novembre 2012, ovviamente, quindi tra pochi giorni. Verranno esitati oltre 1.000 lotti e i dipinti, invece, il giorno dedicato ai dipinti è il giorno 26 novembre, quindi il lunedì, ore 16 e ore 21. Vi ripeto, Francesco Tabusso, ritratto di donna con fiori, prezzo di base d'asta 7.000 euro. Ora passiamo al prossimo. Grazie a tutti.